Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuzz. Oggi parliamo della battaglia del campo di Asfeld, forse il campo degli dèi. Come sempre bentornati, un ringraziamento a chi ci segue, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati e se voleste supportare tutto l'operato della Fara, in descrizione trovate come abbonarvi a questo canale o come diventare i nostri Patreon. La settimana scorsa abbiamo pubblicato un video dedicato alle spade longobarde. Il video ha avuto un discreto successo, anche se, come spesso chi ci segue lo sa bene, non è un argomento che affascini moltissimo i membri della Fara. La parte militare del mondo longobardo è fondamentale, non si può tralasciarlo ovviamente, ma al nostro punto di vista, al nostro approccio, è quello ricostruttivo, è legato principalmente alla cultura materiale. Quindi, ad esempio, anche le spade a noi interessano più come oggetto dell'artigianato metallurgico, più che come simbolo militare. Detto ciò, proprio per il successo che il video ha avuto, ci sono arrivate diverse richieste riguardo all'applicazione di queste spade, alle grandi battaglie dei longobardi. Spiace un po' deludere il pubblico, non abbiamo notizie di grandi battaglie dei longobardi. Mi spiego. Come sempre abbiamo poche fonti riguardo alla storia dei longobardi a cavallo della migrazione. A cavallo della migrazione che li porta in Italia, quindi dell'ultimo periodo. Sappiamo qualcosina, ma non sembrano essere riportate grandi battaglie, ad esempio durante la cosiddetta conquista dell'Italia. Pensiamo solo all'assedio di Pavia, che, analizzato da storici moderni, sembra in realtà ricalcare modelli letterari del passato per dare un tono epico alla conquista di Alboino, ma di cui in realtà non abbiamo nessun dato concreto. Allo stesso modo non risultano grandi battaglie campali contro i bizantini in Italia in questa fase della conquista. Abbiamo ogni tanto qualche riferimento a battaglie della fase precedente. Per questo motivo oggi vi voglio parlare della battaglia di Asfeld, una battaglia che si svolge in terreno pannonico, quindi durante l'ultima tappa della migrazione longobarda, intorno al 552. Alcune fonti ci dicono 551, ma insomma teniamo il 552 per comodità, tenendo presente che alcune fonti, in particolare dell'impero romano d'Oriente, fanno riferimento al 551. Perché parliamo di questa battaglia? Perché è la battaglia con cui i longobardi... Scusate, Zelda ha fatto cadere di tutto. Dicevamo, parliamo di questa battaglia perché è quella con cui i longobardi si vanno a definire come la potenza di riferimento nel bacino pannonico. In quel momento, nel grande bacino pannonico e nei territori che oggi noi collocheremo nei Balcani, era registrata la presenza, sì, dei longobardi, ma anche di un'altra importante tribù germanica, i Gepidi. Entrambe queste popolazioni avevano accordi differenti con il mondo romano orientale, con l'impero bizantino di Giustiniano, che in quegli anni sarà poi impegnato proprio nel tentativo di riconquistare l'Italia, l'Occidente e il Nord Africa. Cosa succede? Come si sblocca la situazione e come si arriva a questa battaglia? Beh, sostanzialmente i Gepidi, pur avendo sottoscritto un accordo con l'impero bizantino, paiono non farsi grandi scrupoli nel traghettare, nel permettere il passaggio attraverso i loro territori di quelle popolazioni di origine slava che in quel periodo erano delle principali spine nel fianco orientale dell'impero bizantino. Di conseguenza in quest'ottica si rafforza in realtà il rapporto fra romano orientali e i longobardi in chiave antigepida. In questo momento i longobardi sono guidati da Audoino, padre del futuro re Alboino, che chiede aiuto a Bisanzio, il quale gli fornisce effettivamente un supporto militare, anche se sembra essere piuttosto limitato. Parrebbe infatti che una buona parte degli uomini partiti con l'ordine imperiale di supporto al problema Gepide, in realtà vengono poi deviati per la risoluzione di questioni ecclesiastiche e che quindi arrivi a destinazione, in supporto ai longobardi, solo un piccolo contingente guidato da Amalafrido, un generale di lontana origine gotica e probabilmente cognato dello stesso Audoino, la cui moglie Rodelinda doveva essere sua sorella. Ecco quindi che ci troviamo in questa situazione con i geppidi presi fra i longobardi e i bizantini. Pare che l'esercito bizantino non abbia contribuito granché a questo scontro, che siano stati sostanzialmente i longobardi a portarlo a termine, ottenendo una vittoria schiacciante con tanto di inseguimento lontano dal campo di battaglia dei superstiti geppidi. Non sappiamo granché dello svolgimento della battaglia, sappiamo che non sarà l'ultima, lo scontro con i geppidi si riproporrà nel 560 con l'arrivo tra l'altro di un nuovo attore sul palco, cioè la popolazione avara, ma magari di questo parleremo più avanti, ma si conclude con una vittoria schiacciante dei longobardi, che vanno a definirsi come la potenza egemone nel contesto germanico del bacino pannonico. Parliamo di questa battaglia anche perché è uno degli episodi più noti dell'istoria longobardorum di Paolo Diacono e che noi ricostruttori della Fara, ma buona parte dei ricostruttori longobardi che vogliono tenersi alle fonti e non essere bellissimi e coloratissimi, seguono con abbastanza attenzione. Infatti, al termine di questo scontro, le gesta dei longobardi vengono riportate a Audoino, in particolare vengono riportate le gesta di suo figlio Alboino, che aveva ucciso sul campo il figlio del re dei geppidi. L'exercitus longobardo richiede quindi che Alboino sieda alla destra del padre durante il banchetto rituale successivo alla guerra, ma Audoino rifiuta quest'onore al figlio, dicendogli che la tradizione del suo popolo richiede che per essere un vero guerriero adulto egli riceva delle armi in dono da un re straniero. Alboino, giovane, sprezzante, impavido, si recca direttamente dal re dei geppidi a cui ha appena ucciso il figlio, confidando nelle leggi dell'ospitalità germanica, cioè nel fatto che debba venire accolto perché in quel momento lì la situazione fra geppidi e i longobardi non è più belligerante. L'istoria Longobardorum ci racconta di come il re geppide in effetti accolga Alboino, pur facendogli pesare come il posto che lui occupa nella tavola gli sia doloroso perché era quello riservato al figlio che lo stesso Alboino ha ucciso. Ma quello che poi a noi interessa di più è un piccolo episodio. L'altro figlio del re o uno dei guerrieri, ci sono diverse versioni, accusa i longobardi di sembrare delle cavalle per la loro tradizione di fasciarsi le gambe di bianco. Se avete visto sui nostri social come i longobardi maschi della Fara vestono vedrete che portiamo delle lunghe fasce di lana alle gambe dai piedi al ginocchio. È una tradizione di vestiario comune al mondo germanico e non solo dell'epoca la peculiarità longobarda sembrerebbe essere da questo passaggio proprio il fatto che le fasce non siano colorate in un mondo in cui il colore è simbolo anche di ricchezza, di potere quindi una scelta di identità etnica se volete. Ecco che in questo contesto con questa accusa infamante uno dei guerrieri risponde all'accusatore dicendogli vai, vai sul campo di Asfeld dove si era svolta la battaglia appunto con i gepidi e vedrai come queste cavalle scalciano facendo riferimento appunto alle teste spaccate dei guerrieri gepidi a opera dei guerrieri longobardi. Quindi questa battaglia di Asfeld è una battaglia che per i longobardi è talmente importante da trovare spazio nell'istoria longobardorum di Paolo di Acono scritta secoli dopo in un contesto in cui i gepidi ormai non esistevano più e addirittura una parte dei gepidi era stata assorbita poi nell'ultima emigrazione dall'exercitus longobardo. Doveva essere quindi un episodio fondante nella creazione della loro identità. In particolare alcuni studiosi con un approccio diciamo un po' romantico hanno voluto vedere nell'etimologia del termine Asfeld proprio quel campo degli asi cioè luogo, campo degli dèi a dimostrare che questa battaglia era stata quasi un'ordalia divina. È chiaramente una rilettura un po' azzardata ma chi può dirlo visto che la fonte che ce la riporta in maniera più esplicita questa storia longobardorum di Paolo di Acono in effetti lascia intravedere molti elementi di natura pagana e leggendaria in una narrazione di chiara matrice cristiana. In questo contesto quindi sicuramente avremmo visto applicate le spade di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e le avremmo visto utilizzate da quell'alboino le cui fonti ci dicono che proprio sotto il suo regno verranno prodotte le migliori spade della storia dei longobardi. Bene, speriamo di avervi incuriosito con questo piccolo excursus guerriero non diventeremo uno di quei canali che si dedicano alle varie battaglie non è quello il nostro focus il nostro focus è la cultura longobarda materiale e immateriale di cui l'aspetto militare applicato cioè quello delle strategie, delle battaglie è veramente un aspetto secondario dal nostro punto di vista e in ogni caso poverissimo di informazioni di prima mano di informazioni concrete ma fateci sapere nei commenti nel caso foste curiosi di altri episodi importanti e fondanti tanto dell'identità longobarda quanto delle dinamiche migratorie o di conquista dell'Italia. Bene, alla prossima e mandi! Grazie a tutti!